Oggi tutta l'Italia si ferma simbolicamente per un minuto di silenzio, un minuto che vale un anno intero e ci porta a ricordare tutti coloro che non ci sono più, tutti coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo, tutti coloro che sono stati e sono in prima linea per lenire le sofferenze e sconfiggere questa pandemia. Dopo un anno di sacrifici che mai avremmo immaginato purtroppo la pandemia non è vinta. Per questo servono ancora gesti concreti di solidarietà in favore di coloro che sono in difficoltà. Cittadini e istituzioni siamo chiamati ad impegnarci insieme per costruire un futuro di rinascita del nostro Paese e di Sirmione. Grazie a tutti.